Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è anche Fabri Fibra sta ultimando i suoi live dell'estate. Il rapper, uno dei capostipiti della cultura rap italiana, sta per concludere la sessione outdoor del Chaos Live Tour, che però nel suo caso avrà uno stacco molto limitato tra quella indoor e quella outdoor. Fabri Fibra è uno di quegli artisti che trae la sua massima ispirazione e carica proprio dal contatto col pubblico, pertanto per lui essere live è una ragione di vita. I due anni di stop imposti dalla pandemia di coronavirus hanno costretto Fabri Fibra e tutti gli altri artisti a rimanere lontani dal pubblico, a non esibirsi dal vivo e a non poter contare su quell'energia ed è anche per questo che ora lui, così come tutti i suoi colleghi, stanno cercando di recuperare il tempo perso, provano a ricucire quel rapporto che la lontananza in alcuni casi ha sfilacciato. Fabri Fibra in concerto a Moncalieri, la scaletta appunto dopo due anni di pausa, Fabri Fibra è tornato più carico che mai a esibirsi live sui palchi di tutta Italia. Il tour estivo ha lasciato davvero molto poco spazio al rapper, che ha voluto spingere al massimo per il suo ritorno sulle scene dopo la pandemia, portando una scaletta ben calibrata ed equilibrata, che alterna alla perfezione brani recenti con quelli storici del suo repertorio, immancabili a ogni concerto per i fan che lo seguono fin dall'alba della sua carriera e non solo. La denuncia sociale è parte integrante dei testi di Fabri Fabri, è una prerogativa di quel tipo di cultura, che Fabri Fibra porta avanti con convinzione. Può essere definito uno dei capisaldi storici di questo movimento nel nostro paese e lo dimostra il fatto che i suoi concerti sono quasi sempre sold out e che sotto il suo palco è possibile vedere fan che erano giovani quando Fabri Fibra ha iniziato la sua scalata al successo e che ora sono adulti, magari padri e madri di famiglia, che a loro volta accompagnano i figli ad ascoltare i concerti di Fabri Fibra. A meno di sorprese dell'ultimo minuto, la scaletta di Fabri Fibra a Moncalieri di stasera, venerdì 9 settembre, sarà pressoché uguale a quella degli altri concerti tenuti fino a questo momento. Intro. Stavo pensando a te. Pamplona. Luna piena. Non crollo. Non fare la puttana Chaos. Applausi per fibra. Rap in vena. Propaganda. Stelle. Demo nello stereo Brutto figlio di. Goodfellas. Dalla A alla Z. Tranne te. Fotografia Panico. Fenomeno. Cronico. La Pula Bussò. Remix. Rap in guerra. Verso altri lidi. Yoshi. Cocaine. La Giostra. Come Vasco. La soluzione. Rap futuristico. Bugiardo. Il tour di Fabri Fibra. Dopo il concerto di Moncalieri, Fabri Fibra è atteso a Genova, a Milano e a Roma. Ma nel suo calendario sono già fissate anche le date di ottobre, che lo vedranno esibirsi a Napoli e a Firenze, in attesa che vengano aggiunti nuovi appuntamenti nelle prossime settimane. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.